ok ragazzi abbiamo un altro incarico della settimana 10 configura l'oplink del dispositivo vicino a caverna di comando e poi andremo ad interagire con il tavolo holo benissimo atterriamo attiviamo il nostro hoplink vediamo se c'è un po' di tutto in giro e sentiamo che cosa ci dicono ok abbiamo capito tutto quindi dobbiamo andare dove è il tavolo holo sotto al centro di caverna di comando vediamo un attimo allora installa un generatore nei pressi dell'holo scrivania dentro alla caverna di comando beh ragazzi non c'è niente di più semplice quindi vediamo come fare usciamo quindi e buttiamoci giù dentro il condotto da reazione voliamo scendiamo usciamo giriamo subito verso destra troviamo una botola ed eccola qui entriamo dentro la botola qui a destra apriamola, richiudiamola per sicurezza ah c'è una cesta apriamola e vediamo che cosa ci possiamo trovare benissimo va bene dai pompone non fa mai male allora scendiamo ecco qui il tavolo il generatore attiviamolo benissimo adesso dobbiamo mettere le chiavi di controllo la prima la seconda attiviamo la simulazione andiamo a interagire ancora su quelle cinque lineette arancioni attivo allo scrivania lo scrivania attiva e vediamoci adesso tutta la tutta la presentazione tutta la la dinamica il video di quello che dovrebbe succedere l'anteprima ragazzi non mi vengono le parole giuste la rappresentazione virtuale ecco la mia arrivata ogni cosa nel loop è sparita come niente fosse non voglio vedere un altro mondo che finisce stavolta vinceremo vabbè ragazzi questa è la fine della missione quindi nel frattempo vi saluto pollicione condividete e ci vediamo alla prossima missione